Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore disse Guai a voi che costruite sei polcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri Essi li uccisero e voi li costruite Per questo la sapienza di Dio ha detto Manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e li perseguiteranno Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti Versato fin dall'inizio del mondo Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria Che fu ucciso tra l'altare e il santuario Sì io vi dico ne sarà chiesto conto a questa generazione Guai a voi dottori della legge Che avete portato via la chiave della conoscenza Voi non siete entrati E a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito Quando fu uscito di là gli iscrivi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile E a farlo parlare su molti argomenti Tendendogli insidie Per sorprendere in qualche parola uscita dalla stessa bocca Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Cari fratelli La riflessione del Vangelo di oggi Si basa sul terzo giorno in cui Gesù vuole avere uno scontro diretto con il popolo Quindi quando parliamo di popolo parliamo di tutto lo strato della società Dal più ricco al più povero E Gesù come direbbe lo slang di adesso non le manda a dire Quindi è un Gesù che ci parla a 360 gradi Che ci fa capire che gli errori dei padri ricadono sui figli E gli errori di questi figli che diventeranno padri faranno sì che ricadranno ancora su quelli che saranno le generazioni a venire Perché poi appunto la venuta di Gesù non vorrà dire che Gerusalemme si converte Anzi è il contrario Gerusalemme non riconoscerà assolutamente Gesù se non alcuni gruppi se non un numero limitato Nonostante poi comunque l'evangelizzazione andrà avanti Certo la realtà dei fatti ci parla di una chiesa che si troverà ad emergere solo nel quarto secolo Quindi noi avremo tantissimi anni e tantissimi martiri che appunto erroreranno con il loro sangue Quello che è il germe della fede Quindi sicuramente il germoglio del cattolicesimo nasce appunto dall'essere errorato dal sangue di questi martiri Quindi noi prendiamo a base che tutto ciò che concerne il Vangelo Quindi Gesù e quindi lui stesso testimonianza che è martire, martire ingiusto Quindi Gesù e quindi lui stesso testimonianza che è martire, martire ingiusto E come martiri ingiusti furono tutti quei profeti che si palesarono a Gerusalemme, al popolo di Israele E non vennero considerati Anzi forse vennero considerati ma in maniera ostile Quindi Gesù dice appunto che è la sapienza Cioè quella parte dello Spirito Santo che ha fatto in modo che sin dall'inizio gestisse la terra Quindi è la sapienza che crea la terra, è la sapienza che manda i profeti È la sapienza che manda le persone ad evangelizzare, a portare la buona novella Quindi ricordiamoci che tutto si basa sulla sapienza Sia come creazione del mondo, sia come evoluzione del mondo Ed è noi che dobbiamo ricorrere a questa parte dello Spirito Quindi attraverso lo Spirito si palesa tutto Senza di lui non vi è niente Lo stesso Gesù nascerà per opera dello Spirito Santo Quindi abbiamo il dovere di confrontarci sempre con la terza persona di Dio Per portare avanti qualche cosa Sicuramente Gerusalemme non è mai stata in linea con lo Spirito Santo E questi sono un po' i risultati Quindi la testimonianza che ci porta lo Spirito è quella che la Chiesa si paleserà appunto attraverso il martirio Quindi non è un fattore di ieri, non è un fattore di oggi, non sarà solo un fattore di domani il martirio Quindi è quella coscienza che noi prendiamo, che noi riusciamo a capire e sviluppiamo Attraverso il sacrificio, ma un sacrificio attivo, non passivo Se noi prendiamo appunto i profeti, a prescindere da quello che potesse essere Giona Che era un profeta un po' dubbioso Però nonostante tutto tutti gli altri profeti erano istruiti da Dio Ma istruiti dalla Sapienza soprattutto Che era direttamente comunicante con loro E li ha fatti andare E li ha fatti appunto andare spesso e volentieri al martirio Ma è la stessa Sapienza che agirà anche con gli Apostoli Se noi prendiamo i Vangeli e ci rendiamo conto che tutti gli Apostoli non riuscivano a comprendere Gesù Lo hanno compreso alla sua ressurrezione quando ha mandato i doni dello Spirito Quindi noi per comprendere il Vangelo, per comprendere noi stessi Per cercare di comprendere le opere di Dio Dobbiamo rientrare assolutamente nel dono della Sapienza Altrimenti attraverso, senza di quella, non attraverseremo neanche noi stessi Quindi il concetto base è il martirio, come dice oggi Gesù E non è un caso che il martirio sia anche il santo di oggi Il santo di oggi è un classico del martirio Quindi abbiamo Sant'Ignazio di Antiochia Questo santo che è non il primo martirio perché il primo è appunto Santo Stefano Però è una figura molto particolare Tanto più che viene soprannominato Teoforo, ovvero portatore di Dio E' distruito da San Giovanni Che poi casualmente è anche l'Apostolo in cui Gesù mette il proprio cuore Lui, appunto Sant'Ignazio, è sicuramente toccato dallo spirito Ed ha uno zelo per Dio simile a quello di Elia Quindi abbiamo un personaggio molto attivo Un personaggio che già il fatto che venne chiamato Teoforo Appunto portatore di Dio Ci fa capire quanto realmente lo spirito fosse su di lui Certo, è possibile che sia stato un predestinato È possibile che sia stato una persona a cui aveva un compito E doveva portarla a termine Perché forse solo lui riusciva a portarlo Però questa cognizione Che lui fosse cosciente di quello che andasse incontro Ed anzi lo invocasse E questo lo faceva comunque porre in una condizione realmente di uomo Con una marcia in più Realmente con una cognizione di Dio E una cognizione di Gesù Cristo Realmente viva Quindi se Gesù ha passato quel tipo di situazione Perché non debba passarlo io Tanto più che poi vi è una frase piuttosto particolare Piuttosto cruda nella sua concezione Che ci fa capire quanto realmente fosse in linea con la passione di Gesù E con la vita tutta E appunto riporterei una frase piuttosto evocativa Che ci fa appunto intendere Quanto realmente persone come lui erano Erano toccate dalla sapienza in maniera assoluta Sono frumento di Cristo E devo essere macinato dai denti dei leoni Se questi divenissero mansueti e volessero risparmiarmi Io stesso li aizzerò Le mie catene gridino a voi di stringervi in un'incrollabile armonia di fede e di preghiera Ecco, la sapienza Questo dono dello Spirito Santo Si completa appunto quando noi ci compone la passione di Gesù Un altro santo, Sant'Antonio da Padova Anche lui anelava ad essere martirizzato Non verrà martirizzato Quindi Sant'Antonio, nonostante avesse tutti i doni del caso Non aveva quella permissione o quella concessione In cui la sapienza poteva realmente agire su di lui Quindi quello che noi possiamo definire il dono della sapienza Possiamo anche comprenderlo nella capacità nostra di poterlo accettare Tutti noi abbiamo la possibilità di chiedere i doni dello Spirito Tutti noi avremmo il dovere di chiedere i doni dello Spirito Tutti noi dobbiamo anelare la sapienza Tutti noi dobbiamo comprendere che la sapienza agirà nei limiti nostri Sia Sant'Ignazio d'Antiochia come Sant'Antonio anellavano la stessa cosa Avere una vita, un fine vita legato alla passione di Gesù Uno è stato accontentato e l'altro no Quindi il Vangelo di oggi ci fa capire una cosa sola Che tutte le persone che si mettono in linea Come si misero in linea i padri con i figli di Israele Portano solamente un danno generazionale Quindi quando noi parliamo di albero genealogico con tutti i suoi danni Ricordiamoci che il Vangelo ne attesta la veridicità in questo brano Quindi tutto ciò che noi abbiamo subito o subiamo Sicuramente può essere anche derivato dalle colpe dei nostri padri Tanto più che appunto il cieco miracolato Era appunto uno dei grandi momenti In cui si dicesse tra gli abitanti del luogo Ma tu con tutti i peccati che hai Come puoi parlare? Quindi ricordiamoci sempre che A prescindere da tutto quello che noi comprimiamo